Quante volte davanti a vecline come queste abbiamo sognato di poter avere la fatidica fotocombinina a pedale. Negli anni cinquanta solo in pochi si potevano permettere questo lussuoso giocato. Noi si era strafelici se riuscivamo ad ottenere l'automobilina di latta a corda. Ai miei tempi c'era la Giordani che produceva automobilina. Anche la più semplice dal punto di vista costruttivo e nella presenza di accessori che era la Popolare e poi alla Granusso. Questa auto popolare è la più economica. In origine era monocolore mentre tutti gli altri modelli erano bicolori. Questa però è bicolore sicuramente per la caratteristica successiva appunto dell'auto popolare più economica. E' un'auto sport russo che aveva una lamiera fatta in una lamiera speciale e siamo già all'interno dei cinquanta. La stessa datazione è anche il modello precedente che si può considerare un'auto giocattolo di uso comune. Questa invece ha già un intento di auto sportiva. Il uso infatti richiama già le auto sportive e in particolare il musetto dell'Alfa Romero. E' un'auto molto pesante ma è pesante perché poteva utilizzare un motore, una batteria per cui ecco non c'erano di questi problemi. La batteria era a 12 volt e faceva sì che la macchina potesse resurgere la velocità anche di 8 km orari e anche di superare un certo qual dislivello sperato. Un oggetto molto ambito per lei. Una delle macchine più fortunate siamo ormai negli anni cinquanta. La Giordani è ormai conosciuta a livello nazionale e anche a livello internazionale. E' una delle macchine che gli ha dato fortuna prodotta per moltissimi anni in una serie di modelli. Questo è uno dei primi ed è l'auto Indianapolis in versione lusso anche in questo caso. Questo ha ormai le gomme gonfiabili, spesso volentieri usavano gomme pirelli anche, si chiamano ora gomme balloon. Dentro notate il colore, il rosso e il blu che sono il colore del Bologna, venivano usati sempre anche in maniera alternativa per l'esterno e per l'interno. Carlo Studer si poteva permettere questa macchinina. Carlo Emilio Studer nel lontano 1932 organizzò al Giardino Inglese una corsa. Chiari sc忙iędzy a andrea Nassari Bologna Chauveglio per quelicumore nationale! Chiari sc Chiari sc Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.